voci della chiesa iblea un programma della redazione di radiocaris in blu ragusa ben trovati cari radiascoltatori siete sintonizzati sulle nostre frequenze 87 8 e 99 3 la voce che sentite è quella di veronica falcone oggi in questo nostro consueto appuntamento con voci della chiesa eblea siamo qui con vincenzo la monica responsabile del servizio presidio della caritas di ragusa per parlare insieme a lui del premio speciale che è stato consegnato proprio per il progetto presidio della colomba d'oro per la pace bentrovato vincenzo grazie grazie per questo invito un caro saluto a tutti gli ascoltatori vincenzo parliamo un po di questo premio è un premio molto importante questo si è capito ma vogliamo spiegare meglio di che cosa si tratta questo premio della colomba d'oro per la pace a chi viene dato spieghiamolo meglio allora è un premio che ha 34 anni di vita nato negli anni 80 nel pieno della guerra fredda quando le tematiche della pace erano strettamente collegate al pericolo atomico del nostro territorio era un premio che l'archivio per il disarmo aveva preseduto all'epoca dal presidente della repubblica italiana sandro pertini aveva deciso di insegnare a tre giornalisti che avevano particolarmente a cuore la tematica della pace e del disarmo insieme ai tre giornalisti quindi questo è un premio eminentemente giornalistico insieme ai tre giornalisti si premiava una personalità internazionale che si era occupata e quindi giusto per fare alcuni nomi in questi anni hanno vinto il premio Igor Mann, Mikhail Gorbachev, Nelson Mandela, padre Alex Zanotelli, Donciotti quindi una serie di personalità Giuliana Sgrena che appunto si sono occupate di questo tema non viene assegnato invece ogni anno ma viene assegnato solamente in circostanze particolari il premio speciale da parte della giuria quest'anno appunto devo dire anche con una sorpresa grande da parte nostra abbiamo ricevuto una telefonata che ci informava che il premio speciale della giuria sarebbe stato assegnato e sarebbe stato assegnato appunto al nostro presidio Caritas. Questa giuria da chi è stata composta? È composta da una serie di persone tra cui Riccardo Iacona, Dacia Maraini, Tana De Zulueta e il presidente che si chiama Battistelli quindi il premio è stato preseduto dopo Pertini da Rita Levi Montalcini e poi infine appunto da Battistelli insieme a questa giuria. loro ci dicevano appunto che per assegnare il premio speciale hanno fatto degli approfondimenti, hanno verificato un po' quelle che erano le nostre attività, che hanno appreso tramite alcune pubblicazioni fatte dall'Università di Urbino che era venuta lo scorso inverno a studiare un po' i meccanismi e il lavoro del presidio su incalico di Caritas Italiana. Loro avevano appreso della nostra esistenza e hanno fatto degli approfondimenti appunto e quindi poi hanno confermato la loro scelta di dare questo premio mettendo in luce il lavoro che viene fatto che poi è un lavoro di vicinanza nei confronti di queste persone ma proprio da questi microfoni noi ne abbiamo parlato più volte e abbiamo più volte raccontato la situazione, la condizione dei lavoratori agricoli, dei loro figli, delle donne che vivono in questa zona della nostra provincia. Avete ascoltato Voci della Chiesa Iblea, un programma della redazione di Radio Caris in blu Ragusa.